Hai sentito di sfidi? No, cosa è successo? D'improvviso, durante una chat, è sparito nel nulla. Ma dai! E come è accaduto? Nessuno lo sa con certezza, ma Bitti dice che è stato rapito dagli alieni. Gli alieni? Mica gli avatar sono merce preziosa, con tutto quello che c'è da prendere sulla Terra. Hai ragione, suona strano. Comunque ci sono alcuni indizi, che indicano che è stato sacrificato al ciuppacapra, un mostruoso animale sudamericano. Il ciuppacapra, se mai esistesse, secondo te si accontenterebbe di qualcosa che è senza carne e sangue? Ma, non lo so, ho sentito dire che si nutre delle anime. Anche se anima e avatar iniziano con la stessa lettera, sono due cose molto diverse. Certo, infatti non so chi sia così ingenuo da credere a certe cose. Piuttosto, ho sentito dire che l'hanno rapito per portargli via degli organi per i trapianti. Scusami, quale organo si dovrebbe prendere da un avatar? Al massimo noi possono sottrarre lo spazio in cui viviamo? Il resto è solo apparenza e niente sostanza. Talvolta mi sembri un po' cinica. Sono realista, e diverso. Te lo dico io cos'è successo, se non sbaglio erano tre mesi, che sfidi non veniva attivato. Bene, il suo avatar reale è rientrato l'ultima volta nel sistema per cancellarlo. Talvolta capita, si vergognano di noi, oppure hanno paura, che qualcuno ci usi a loro insaputa. E noi non possiamo ribellarci, siamo identita in prestito. Grazie. 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 Grazie.